mantenete un dialogo aperto con i vostri figli per educare bene i vostri figli dovete instaurare con loro un vero dialogo in modo che si sentano liberi di confidarsi con voi incoraggiateli ad essere sinceri consentendo loro di dirvi tutto ciò che pensano se respingete vostro figlio perché ha detto qualcosa che non vi piace diventerà evasivo cercherà di mascherare i suoi veri sentimenti vi nasconderà quei comportamenti che disapprovate e andrà alla ricerca di qualcun altro con cui confidarsi è molto meglio che siate voi quell'amico a cui può sempre rivolgersi una volta instaurato un rapporto del genere i ragazzi non sentiranno il bisogno di drogarsi o di rivolgersi altrove in cerca di comprensione trovate il tempo per parlare coi vostri bambini rispondete alle loro domande e consigliateli con parole semplici e chiare non limitatevi a dire non farlo dovete adottare con loro il tipo di ragionamento che li invogli ad ascoltare ascoltando si impara anche se non si condivide tutto quello che viene detto incoraggiate i bambini ad ascoltare e le vostre parole costruttive si imprimeranno nella loro coscienza un giorno quando diventeranno a loro volta genitori le apprezzeranno un buon rapporto con i figli deve incominciare nei primi anni di vita non aspettate che sorga un problema per dialogare con loro perché allora sarebbe molto più difficile vi raccomando vivamente una cosa non cercate mai di imporre ai vostri figli le vostre convinzioni spirituali non dite io medito perciò devi meditare anche tu i bambini sono come i fiori lasciate che crescano e che sviluppino la loro personalità non c'è niente di sbagliato in questo la vostra parte consiste nel dare il buon esempio è un orientamento generale affinché possano imparare ad amare dio ad accettare ad affrontare le loro responsabilità ad essere altruisti e gentili con gli altri ossia a coltivare quelle qualità e quelle virtù che contraddistinguono la persona spirituale durante la mia infanzia noi bambini imparamo molto presto a pregare insieme alla mamma prima di andare a letto ci inginocchiavamo intorno a lei recitavamo una breve preghiera poi pregavamo per ogni membro della famiglia era un momento così dolce non venivamo mai costretti a farlo il bambino a cui si insegna a pregare lo fa volentieri quando a 17 anni entrai a far parte della self realization fellowship sembrava che le mie preghiere della sera non finissero mai tante erano le persone che aggiungevo alla mia lista pregare per gli altri sviluppa una sensibilità per le difficoltà altrui si dovrebbe insegnare bambini ad essere premurosi e altruisti insegnate ai piccoli ad assumersi le proprie responsabilità è anche importante insegnare bambini ad assumersi le proprie responsabilità inorridisco il pensiero che in alcune famiglie i genitori si occupino di tutto cucinano lavano i piatti mettono in ordine la casa curano il giardino mentre il bambino sta seduto di fronte alla televisione o va a trovare gli amici senza aiutare in casa questo non è giusto perché i genitori pensano di dover fare tutto loro perché non danno al figlio quel tipo di educazione che lo aiuterà a diventare responsabile e capace di gestire le varie situazioni della vita in questo modo il bambino diventerà purtroppo un adulto negligente e inaffidabile che non saprà a sua volta educare i propri figli queste abitudini si tramandano di generazione in generazione e così oggi molti giovani sono vittime del nostro fallimento nei loro confronti i bambini dovrebbero imparare in tenere età che non si ottiene nulla senza sforzo per meritare ciò che riceviamo in questo mondo dobbiamo impegnarci è un principio molto importante il bambino che ottiene tutto ciò che vuole non conoscerà mai il valore delle cose insegnategli che deve dare il suo contributo alla famiglia agli amici e alla società allora quando diventerà grande sarà pronto a fare quello che gli altri si aspettano da lui i genitori sono spesso troppo indulgenti con i figli voglio dare mio figlio tutto ciò che non ho avuto io assurdo dategli la possibilità di crescere di realizzare qualcosa di affrontare e superare le difficoltà della vita con il vostro aiuto e il vostro sostegno in modo che possano diventare un individuo forte non potete proteggerlo da tutto né potete assicurargli la felicità soddisfacendo i suoi capricci e se ci proverete a lungo andare non gli sarete di nessun aiuto grazie a tutti